ciao a tutte ragazze benvenute in questo nuovo video ancora a tema pandora ancora dedicato al bracciale a tema bosco ai charms più che altro ragazze poi andremo a inserirle tutti una volta che avremo raccolto tutto quello che ci serve quindi oggi eccoci qui con questi charms quindi abbiamo un pendente due open work e un charms a forma di funghetto super super carino quindi partiamo subito ragazze dal pendente guardate che meraviglia ragazze pendente in rose mi piace un sacco l'anellino di questo pendente perché rimane ovale e poi non è liscio non so se riuscite a vederlo ma c'è una bellissima lavorazione tutto intrecciato poi abbiamo questi due funghetti di cui uno più grande uno più piccolo ed entrambi hanno dei dei zirconcini questo se non sbaglio ce li ha di un bellissimo color bronzo si marroncino giallino dorato è un colore un po indefinito sinceramente mentre questo piccolino ha dei zirconcini della zirconia cubica in in bianco anche questi direi che legano veramente molto bene con il tema bosco anzi vi faccio vedere subito che tanto ce l'ho qui a portata di mano quanto ci sta bene vicino il pendente foglia guardate che belli poi abbiamo questi due open work in realtà uno ce l'avevo già allora visto che voglio creare un po di simmetria nel mio bracciale ho pensato perché non acquistarne un altro anche perché questi in realtà non costano molto sono molto luminosi e rappresentano appunto dei fiorellini delle margheretine tutte a pallini questi sono molto comuni li trovate senza alcun problema sul sul sito pandora ed infine abbiamo questo funghetto che è veramente troppo carino e simpatico qua come potete vedere abbiamo la punzonatura qua ci sono tutti i segnetti che ci sono sui funghetti sono anche leggermente bruniti qui sul davanti abbiamo anche una simpatica porticina e sopra il funghetto abbiamo un un adorabile ranocchietto ora mi piacerebbe trovare anche il funghetto con la fatina per inserirli nel bracciale speculari legherebbero veramente bene ma vediamo ragazzi anche perché quello sul sito pandora se non erro non c'è già più da un pezzo però questo mi piace veramente un sacco e carinissimo e niente ragazzi anche questi pezzi che vi ho mostrato oggi finiranno senz'altro sul nel bracciale a tema bosco come sempre ragazze fatemi sapere che cosa ne pensate penso che mi manca un ultimo pezzo per il momento da mostrarvi e poi proveremo a montare insieme questo bracciale vedremo insomma che cosa ne viene fuori io vi mando un bacione grandissimo e come sempre vi do appuntamento al prossimo video ciao ragazzi